Sì, siamo in 2018 adesso e quindi festeggiamo il 65 anniversario della conquesta del Monteverest quando Sherpa Tanzin e Hilary facevano l'ascensione nel 1953 del Monteverest con le scarpe Bali che hanno salvato la loro vita e quindi noi abbiamo il mondo, l'exploration legato al mondo Bali delle hiking sneakers che abbiamo qui che vengono dal nostro archivio e abbiamo 100 anni di sviluppo, di innovation nel mondo della hiking boots e quindi lì vediamo il mondo della montagna di Bali negli ultimi 65 anni che vediamo nella sua versione la più moderna con la versione stagionale della hiking boots quindi questo è un po' l'exploration che festeggiamo qua la qualità è una cosa su cui noi non portiamo nessun compromesso e lì abbiamo nel mondo, ancora una volta nella montagna, questa scarpa nel mondo scribe che è in Goodyear Construction che porta la migliore qualità che esiste nel mondo Goodyear è l'ultima rifinitura che Bali ha portato nel 1870 ha portato la costruzione di Goodyear dall'America alla Svizzera che ha stravolto il mondo della costruzione della scarpa e l'ultima cosa che è anche molto importante è l'aspetto sportivo dell'azienda perché Bali in 1930 ha cominciato lo sviluppo della design sneakers e quindi lì abbiamo questa scarpa che chiamiamo la Galaxy creata nel 1983 che abbiamo riprodotto e questa è una replica della Galaxy di questo retro sneakers pack che mettiamo avanti in questo momento a Pitti l'accessorio è ancora più importante della scarpa per noi e quindi abbiamo qui questo zaino che abbiamo lanciato con la nuova collezione di hiking boots che è meraviglioso in pelle fatto con un design, le raffiniture, tutti i dettagli che fanno di questo zaino un hit per chi va in montagna grazie a tutti grazie a tutti